rossi attenzione pronti partenza vai e qui sono legati con la chiusura che facchi a tutta velocità ora facchi per noi scopolo spartizzabile scopolo spartizzabile scopolo spartizzabile metto a guardare uuuu allora lui ci si trova nel stramurale di ciorazzo allora il bordo non è più il bordo il bordo e proseguiamo la cazzo avvicinato torbe pericolose ancora sul cazzo sicuramente città civici carrossi comuni leva fate lo spreggio alla macchina civica AL022MH ioni e e l a ok 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 no no ok 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 in compagnia di bob sinclair ahahah 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 il carneton è arrivato ahahah 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 ahah ahahah ah ahah 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 ooo Presidente, dà l'all'office Presidente, dà l'all'office Icaca, riquiri Presidente, dà l'all'office